Allora, come ha detto Elisabetta nella sua introduzione, questo primo intervento servirà soprattutto a aiutarvi a inquadrare meglio il tema della partecipazione civica, per come si sviluppa al di fuori della programmazione 14-20, quindi della programmazione legata all'utilizzo dei fondi SIE che è oggetto di questo corso, e anche a darvi alcune prospettive su come la partecipazione dei cittadini può essere declinata, quali sono alcune esperienze che si realizzano in Italia. Innanzitutto, cosa si intende per partecipazione civica? Se ne parla molto, è utile chiarire di che cosa stiamo parlando. Si tratta di un processo strutturato, di discussione o di progettazione su temi che abbiano rilevanza pubblica, si tratta di processi che coinvolgono una pluralità di soggetti, quindi a seconda dell'oggetto, delle finalità, degli obiettivi della consultazione si può condividere un determinato target, oppure si possono coinvolgere in generale i cittadini o parti della società. È un processo che può essere attivato dal basso, quindi su iniziativa spontanea da parte dei cittadini, oppure promosso dall'alto. Quella di cui parleremo in questo momento è soprattutto la partecipazione dall'alto, cioè le iniziative di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni pubbliche che vengono attivate su iniziativa di un soggetto pubblico su base volontaria. Specifico questo aspetto perché ovviamente c'è una tipologia di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini che discende da disposizioni normative, pensate ad esempio a quello che riguarda la partecipazione e la normativa in campo ambientale, che prevede tutta una serie di operazioni, di concertazione, di ascolto degli stakeholder e coinvolgimento. Quella è un tipo di partecipazione che è in qualche modo obbligatoria per la pubblica amministrazione per arrivare a portare a buon fine un procedimento. Quella di cui parliamo invece in questo breve intervento è una partecipazione che il soggetto pubblico attiva autonomamente senza che vi sia un obbligo a farlo, perché ritiene che coinvolgere i cittadini nel processo decisionale abbia dei vantaggi. Adesso vedremo quali possono essere. Nella partecipazione, nei processi partecipativi promossi da un soggetto pubblico, normalmente la maggior parte delle iniziative di partecipazione che conosciamo, alle quali magari siamo anche invitati o abbiamo partecipato, riguardano queste due tipologie, le politiche pubbliche coprodotte ed intersettoriali, le politiche pubbliche che si legano a conflitti. Questo è un elemento importante perché forse è il tipo di partecipazione che più conosciamo, quella della quale leggiamo di più, anche sulla stampa o magari nel territorio, nella città nella quale viviamo, ci sono state iniziative di partecipazione che sono state assunte dal decisore pubblico per in qualche modo intervenire in situazioni di criticità. E' importante sottolineare questi due aspetti perché riguardano due motivazioni di fondo alla base dei processi partecipativi. La prima è quella di chiamare i cittadini a partecipare nel momento in cui si deve prendere una decisione che è particolarmente complessa, per la quale si ritiene che coinvolgere dei soggetti esterni nel processo decisionale porti a un valore aggiunto, migliori la qualità della decisione. Nel secondo caso, come vi dicevo prima, è considerata una pratica utile alla quale ricorrere quando si prendono decisioni che hanno un impatto forte sulle collettività, che potenzialmente possono generare dei conflitti o che hanno generato dei conflitti e in qualche modo portare tutti i soggetti interessati attorno a un tavolo con delle metodologie di partecipazione strutturata, avendo chiari gli obiettivi, le finalità, le regole della partecipazione, è in qualche modo un elemento che aiuta il soggetto pubblico a disinnescare alcuni meccanismi di conflitto. Questo tipo di approccio, di considerare la partecipazione un elemento di governo, discende da lontano, non ne stiamo parlando in questi ultimi anni. Il primo richiamo che vi faccio e che ritengo utile riportare è quello del libro bianco sulla governance, che è un documento del 2001 della Commissione europea che richiama cinque principi della buona governance, uno di questi, come vedete, è la partecipazione. Questo richiamo a coinvolgere i cittadini, a includerli come soggetti all'interno del processo decisionale, ovviamente discende, come vi dicevo, dalla constatazione di una serie di elementi di evoluzione della società. Da un lato la richiesta dei cittadini di essere sempre più partecipi, di poter esprimere la propria opinione, di partecipare e di farlo spesso in modo anche abbastanza forte nei confronti del soggetto pubblico. Dall'altra quella di utilizzare meccanismi e processi partecipativi inclusivi per correggere, quella che è una tendenza alla quale assistiamo tutti, quello che viene definito deficit democratico, cioè i bassi livelli di partecipazione, per esempio nei momenti elettorali, cioè nei momenti in cui i cittadini vengono chiamati a eleggere i propri governanti. Quindi di fatto un segnale di crisi della relazione tra soggetto pubblico e cittadini, al quale si prova a dare una risposta intervenendo sui meccanismi attraverso i quali il soggetto pubblico prende le proprie decisioni. Questo richiamo, approccio a principi di buona governance, di apertura, di partecipazione dei cittadini è stato poi richiamato all'interno di un modello che si è affermato a partire dal 2009 ed è quello dell'open government, di un approccio quindi a un modello di governo che si è ispirato a dei principi di apertura, di trasparenza, di collaborazione, di partecipazione attiva dei cittadini al processo decisionale, alla progettazione e definizione delle politiche pubbliche e all'attenzione, al controllo rispetto a quello che è l'operato dei decisori attraverso pratiche di monitoraggio, di rendicontazione e quella che viene chiamata accountability quindi un modello in base al quale la pubblica amministrazione deve non solo essere trasparente includere i cittadini, farli partecipare ma anche rendicontare e quindi essere accountable rispetto al proprio operato verso l'opinione pubblica. I processi partecipativi vi dicevo all'inizio sono processi strutturati, quindi hanno delle regole hanno dei livelli, dei gradi di intensità, normalmente la classificazione standard dei processi partecipativi è sulla base di queste quattro gradazioni di intensità dove si va dal livello più basso che è quello informativo a quello più alto che viene chiamato di empowerment. Quando si decide di attivare un processo partecipativo, tra le prime domande che ci si pone vi è quella di capire qual è la finalità, cioè che tipo di partecipazione si vuole chiedere ai cittadini li si vuole consultare, li si vuole solo informare rispetto ad alcune politiche, li si vuole coinvolgere in un processo di progettazione partecipata. È importante che le finalità e il livello della partecipazione venga deciso in fase iniziale perché a ciascuno di questi livelli corrispondono ovviamente degli strumenti, dei tempi, delle modalità di attuazione e ovviamente dei risultati. Come vi dicevo i processi partecipativi sono dei processi strutturati dove ciascuno dei soggetti che è coinvolto ha delle regole e dei compiti da rispettare che sono normalmente dichiarati nel momento in cui si avvia un processo di consultazione. Secondo un modello che è stato anche questo codificato a livello europeo dei processi di partecipazione, tipicamente un processo di questo tipo si articola in cinque fasi. C'è una fase iniziale che viene chiamata di aspettative, quella nella quale il soggetto che promuove l'iniziativa in qualche modo fa una valutazione iniziale rispetto al fatto che veramente ci sia la volontà di portare avanti un processo di questo tipo. Valuta qual è lo spazio, quindi quali sono gli effetti, l'importanza che si vuole dare al processo di partecipazione. Questo è un altro elemento estremamente importante per il successo di un processo di partecipazione, nel senso che attivare un'iniziativa di partecipazione è oneroso per la pubblica amministrazione, è oneroso sotto molti punti di vista, adesso vedremo anche quali sono gli aspetti più critici, ha un impatto molto forte, nel senso che la cattiva partecipazione purtroppo fa molti più danni rispetto al fatto di non fare niente, nel senso che i cittadini una volta che vengono coinvolti, partecipano, dedicano volontariamente del tempo, le proprie idee, le proprie competenze ad un processo partecipativo, una volta che vedono che i risultati della propria partecipazione e i contributi che hanno dato non sono tenuti in conto, perdono la disponibilità a essere nuovamente collaborativi nei confronti del soggetto pubblico. Quindi nel momento in cui si decide di attivare un processo di partecipazione si deve essere consapevoli che il risultato di quella iniziativa di partecipazione deve avere un peso nella decisione finale, la decisione finale sta sempre in capo al soggetto pubblico, i processi partecipativi non costituiscono, non devono diventare un alibi per la pubblica amministrazione per non prendere decisioni, devono sempre portare una decisione, l'obiettivo è che portino una decisione migliore con la partecipazione dei cittadini o di coloro che vorranno dare il proprio contributo. La fase successiva è quella della pianificazione, in questa fase normalmente si definiscono gli obiettivi e i risultati attesi del processo di partecipazione, si identificano gli utenti, quindi le persone che vogliamo coinvolgere, quelle delle quali vogliamo acquisire un contributo, l'opinione e la loro partecipazione all'interno dell'iniziativa, si definiscono gli strumenti, quindi la metodologia e nel caso per esempio che si utilizzino modalità di partecipazione che prevedono anche l'utilizzo delle tecnologie, quali possono essere gli strumenti attraverso i quali viene attuata l'iniziativa di partecipazione. In questa fase si definiscono i tempi, è molto difficile definire qual è la durata standard di un processo di partecipazione, la letteratura in questo campo, soprattutto il mondo anglosassone che è quello che ha di più codificato e ragionato sui processi di partecipazione perché è una tradizione lunga di coinvolgimento dei cittadini, ci dicono che il tempo giusto per una consultazione dovrebbe essere 12 settimane. È un tempo ovviamente che viene calcolato sulla base di una serie di fattori tra cui ovviamente quello di poter dare tempo a tutti coloro che sono potenzialmente interessati e che vogliono partecipare di farlo, quindi vi dicevo i tempi, gli strumenti, le regole perché parliamo di processi strutturati, chi partecipa deve sapere qual è lo spazio di azione, come può mandare il proprio contributo, che utilizzo verrà fatto del proprio contributo e dall'altra parte qual è l'impegno da parte di chi promuove la consultazione o l'iniziativa di partecipazione. C'è durante tutto il processo di partecipazione, c'è un'attività di comunicazione che in realtà è trasversale dall'inizio alla fine del processo che serve non solo a mantenere viva l'attenzione, ad informare, a comunicare su quello che sta avvenendo, ma ovviamente è un elemento di qualità che garantisce il successo dell'iniziativa di partecipazione. Nella fase di azione ovviamente stiamo parlando dello svolgimento della consultazione, quello che accade in questa fase normalmente è un'attività di presidio da parte di chi promuove il processo di consultazione o l'iniziativa di partecipazione rispetto alla partecipazione, contributi, c'è un'attività costante di informazione e di supporto a chi desidera partecipare. C'è infine una fase conclusiva che è forse la fase più critica, quella alla quale prestare più attenzione perché vi dicevo prima è importante perché sia un processo di partecipazione di qualità che le persone non solo siano messe nella condizione di partecipare, di accedere alle informazioni, di farlo nel modo più semplice possibile, ma a conclusione del processo di poter essere informati rispetto a ciò che ne è stato del proprio contributo, quindi quali sono gli effetti della partecipazione sulla decisione. In questa fase quindi normalmente si analizzano i contributi che sono arrivati attraverso l'iniziativa, si selezionano quelli pertinenti, quelli di qualità, quelli che rispondono meglio agli obiettivi della consultazione dei quali si terrà conto per la decisione finale e normalmente gli esiti di una consultazione o di un processo di partecipazione sono comunicati sotto forma di report in modo che tutti i soggetti che hanno partecipato siano informati. Vi faccio degli esempi, questa è la pagina del Comune di Milano che sta attivando per il secondo anno consecutivo un'iniziativa di partecipazione con il bilancio partecipativo che è una delle modalità di partecipazione più diffusa, questo è il secondo anno, in questo momento è in corso, quindi se abitate a Milano e volete farlo potete partecipare dando le vostre idee su come si possano spendere una parte dei soldi nel bilancio dell'amministrazione comunale, su una serie di iniziative che vedrete sul sito, i risultati della precedente edizione del bilancio partecipativo sono pubblicati online e questo è un modo ovviamente per dare evidenza ai risultati della partecipazione e dare modo ai cittadini di monitorare l'avanzamento dei lavori, quindi in qualche modo si è trasparenti rispetto al processo, ma si è trasparenti anche rispetto all'attuazione. È importante quindi essere trasparenti, rendere conto, ma anche dare un feedback a chi ha partecipato, questo è un altro esempio che vi faccio vedere, era relativo al bilancio partecipativo del Comune di Desio che si è svolto nel 2015, loro hanno deciso di dare un feedback pubblico, quindi c'è una pagina del sito che ha ospitato l'iniziativa di partecipazione in cui si ringraziano tutte le persone che hanno partecipato al processo partecipativo promosso dall'amministrazione comunale. Ovviamente questi elementi, strutturare, avere cura di lavorare sul processo, organizzarlo eccetera, è un fattore di qualità, aiuta a far sì che il risultato sia il più possibile quello che ci si aspetta. Ovviamente non c'è una garanzia che una volta che si avvia un processo di partecipazione, si chiamano i cittadini a esprimersi, il risultato sia quello atteso e ne abbiamo molti esempi. Ovviamente l'altro obiettivo della partecipazione che vi ho detto era quello di intercettare in qualche modo, di ridurre il rischio di conflitti, in molti casi ci si riesce, in altri no, non è una ricetta magica che risolve qualunque problema, però attivare i processi di partecipazione, strutturarli bene, attivarli quando ci si crede, quindi quando si vuole realmente acquisire i pareri dei cittadini e utilizzarlo nella propria amministrazione per prendere decisioni migliori, aiuta a ridurre i rischi di conflitto. Alcuni consigli su quando non è opportuno attivare un'iniziativa di partecipazione civica, quindi ricapitolando quello che ci siamo detti, forse non è opportuno farlo quando non si ha realmente l'intenzione di tener conto di quello che verrà fuori dalla consultazione, non c'è un commitment forte, magari diciamo i soggetti che devono prendere la decisione non sono del tutto convinti di volerlo fare, allora magari si può anche decidere di fare altro, di informare, di comunicare, ma non di attivare un processo di partecipazione che come vi dicevo genera aspettative e impegna l'amministrazione. Un altro caso in cui non è opportuno farlo è quando non c'è chiarezza degli obiettivi, quando magari i temi sono poco definiti, non si sa esattamente qual è il risultato che si vuole ottenere e ugualmente anche in questo caso forse ci sono altre modalità di ascoltare l'opinione dei cittadini meno strutturate e più facili da attivare per l'amministrazione piuttosto che un'iniziativa di partecipazione. Ovviamente quando non c'è un commitment forte, sia a livello amministrativo che politico, perché ovviamente la partecipazione ha un impatto forte, non solo sul livello diciamo decisionale, ma spesso anche sui decisori politici, ovviamente quando non ci sono risorse adeguate, parlo di risorse adeguate sia dal punto di vista economico che dal punto di vista delle persone, non servono team di progetto particolarmente numerosi per attivare un processo di partecipazione. Servono però delle competenze specifiche, servono persone che sappiano gestirli, che sappiano organizzarli, che conoscano le dinamiche di questo tipo di processi e quindi ovviamente organizzarsi avendo risorse e persone dedicate è un elemento importante e se non si è in queste condizioni ancora una volta forse è meglio scegliere altre modalità di ascolto dei cittadini. Per chiudere vi faccio vedere invece alcune altre evoluzioni di processi partecipativi che in qualche modo sono sia nati dall'alto che dal basso, che però incrociano movimenti che nascono dal basso e che vengono spontaneamente da parte dei cittadini. Il primo che vi faccio vedere riguarda il tema dei beni comuni, magari alcuni di voi lo sanno, non so se tra voi c'è qualcuno che sta in una città che come Bologna ha un regolamento sui beni comuni, stiamo parlando di modalità di collaborazione tra cittadini e amministrazione per svolgere alcune attività. Questo tipo di modalità di collaborazione sono regolate da uno strumento che si chiama proprio regolamento dei beni comuni, la città di Bologna è una delle prime a aver sottoscritto in Italia questo tipo di regolamento con i propri cittadini. Vi faccio vedere, questo è il sito della rete civica di Bologna, Iperbole, la sezione dedicata al regolamento sui beni comuni, qua voi potete vedere tutte le attività che sono svolte in collaborazione, per ogni attività vedete cosa fa l'amministrazione comunale e cosa fanno i cittadini in cambio. Quindi è proprio una modalità di collaborazione molto codificata che però consente a chi lo desidera di collaborare con l'amministrazione. Sul tema dell'amministrazione condivisa dei beni comuni ci sono molti studi, questo che vedete è un report che ha redatto l'associazione LabSus aggiornato al 2015, è interessante perché vedete quali sono i comuni che hanno scaricato il regolamento, qual è la distribuzione geografica delle amministrazioni comunali che hanno adottato il regolamento sui beni comuni, quindi aiuta anche a capire quali possono essere anche le amministrazioni più sensibili, le collettività più sensibili. È molto significativo secondo me in questo grafico che le prime due regioni siano due regioni del sud Italia, sono la Campania e la Puglia, la terza e la Toscana, mentre invece uno potrebbe pensare che siano le regioni del centro nord a essere più sensibili su questi temi, però sono due regioni, se ci pensate a Campania e Puglia, che hanno invece situazioni forti di conflitto, che hanno anche situazioni difficili da gestire come amministrazioni, quindi probabilmente hanno individuato in questa modalità di collaborazione con i cittadini una modalità efficace per migliorare la qualità della vita e la qualità dell'azione di quelle amministrazioni. I processi partecipativi funzionano molto, o meglio funzionano, sono più efficaci nei contesti territoriali locali, cioè in quelle situazioni in cui il tema sul quale si chiamano le persone a esprimere un parere, a partecipare è vicino. Per questo motivo le città sono in questo momento un laboratorio estremamente interessante di processi partecipativi, come vi dicevo prima lo strumento del bilancio partecipativo è in assoluto la modalità di partecipazione più diffusa al mondo, sono moltissime città, sia le più grandi che le più piccole che utilizzano e che sperimentano il bilancio partecipativo, in Italia ci sono moltissimi casi. Su questo terreno di collaborazione tra amministrazione comunale e cittadini per esempio una modalità interessante è questa che vedete presentata nella slide del crowdfunding civico ed è una modalità attraverso la quale i cittadini finanziano opere pubbliche, è una modalità abbastanza innovativa, in Italia ci sono un po' di esempi, quelli che ci sono in questo momento li trovate su questa piattaforma che si chiama Eppela ed è una piattaforma che ospita iniziative di crowdfunding civico, questa è la pagina del Comune di Milano che promuove alcune iniziative in cui i cittadini cofinanziano opere pubbliche insieme con l'amministrazione comunale. L'ultima cosa che vi faccio vedere invece riguarda le modalità di partecipazione che non sono in nessun modo sponsorizzate e incoraggiate dal soggetto pubblico, ma che partono dall'iniziativa spontanea delle persone, questa che vi faccio vedere è dovuta a una emergenza abbastanza recente in Italia, cioè il terremoto ed è una piattaforma di informazione, condivisione di informazioni nata su iniziativa di un gruppo di persone che hanno messo in condivisione, le trovate in questa pagina, le proprie competenze per usare le informazioni disponibili aperte dalla pubblica amministrazione, in questo caso riguardavano i territori oggetto nei quali c'è stato il terremoto, per in qualche modo aiutare l'amministrazione da un lato e i cittadini dall'altro a capire per esempio quali erano le strade aperte, come ci si poteva muovere, chi aveva necessità di ricevere aiuto, come farlo, quindi in qualche modo un'iniziativa di partecipazione nata dal basso in modalità assolutamente volontaria e spontanea che è capace di generare valore sociale. Di questo tipo di operazioni in Italia ne sono state fatte altre, questo è il portale Open Ricostruzione che invece riguarda e monitora gli interventi di ricostruzione dopo il terremoto in Emilia Romagna e anche questa è un'iniziativa che è nata in maniera spontanea utilizzando ancora una volta i dati aperti della pubblica amministrazione, quindi informazioni messe a disposizione dal soggetto pubblico che vengono in qualche modo raccolte, sistematizzate e rese ugualmente disponibili dando dei servizi ai cittadini e ugualmente accade con i dati relativi ai beni confiscati dalla criminalità, in questo caso il portale si chiama Confiscati Bene e ancora una volta dà una serie di informazioni su come in questo caso le strutture confiscate vengono riutilizzate e vengono messe nuovamente nella disponibilità delle collettività, quindi delle iniziative che consentono ai cittadini di essere informati, di esercitare quella forma di controllo sull'operato dell'amministrazione che appunto richiamavamo all'inizio nell'evento legato al tema del monitoraggio del quale parleremo tra poco si tratta di modalità di partecipazione civica che in qualche modo vengono abilitate da due elementi, uno è la tecnologia, ovviamente l'accesso alle tecnologie digitali, a internet praticamente ovunque, la seconda ovviamente è la disponibilità di dati e di informazioni da parte della pubblica amministrazione, questi due elementi diventano due fattori abilitanti della partecipazione dal basso e due elementi di qualità rispetto alla possibilità di includere e coinvolgere i cittadini iniziative di partecipazione e di monitoraggio. Io ho concluso, ho sforato di 4 minuti per cui mi scuso, vi ringrazio, non so se ci sono state domande, forse sì, vedo una domanda di Daniela, se non suscitano le condizioni per attivare un processo partecipativo, quali altre forme di ascolto si potrebbero attivare? Allora, come dicevo prima, i processi partecipativi sono una modalità, le amministrazioni pubbliche normalmente attuano delle politiche di ascolto, per esempio utilizzando lo strumento delle rilevazioni di customer, aprendo dei form, raccogliendo tramite sondaggi, aprendo per esempio dei momenti di ascolto per cui magari chi può, magari le amministrazioni più grosse se hanno disponibilità di avere un URP, un numero al quale si può chiamare e far arrivare delle segnalazioni oppure attivare dei sondaggi, delle rilevazioni che servano a capire qual è l'opinione, quali possono essere i fabbisogni e cosa ne pensano i cittadini rispetto a una determinata iniziativa e sono ovviamente modalità molto meno strutturate, molto più semplici che probabilmente danno una prima informazione all'amministrazione rispetto a quello che è il sentire, l'opinione pubblica rispetto a un tema e magari a partire dai risultati di quelle rilevazioni si può decidere di attivare delle modalità di ascolto più strutturate, magari utilizzando degli strumenti anche tradizionali, per esempio delle assemblee di quartiere oppure degli incontri magari utilizzando metodologie di partecipazione un pochino più strutturate come può essere l'open space technology, come sono i town meeting, ci sono molte metodologie, però magari non volendo partire da subito con una iniziativa di partecipazione di partecipazione, si può ragionare su modalità di ascolto più semplici, più facili da gestire che però aiutino a dare un primo feedback all'amministrazione. Allora c'è poi Girolamo che dice, mi pare che ha già detto che in questo caso valutare il ricorso alla condivisione o alla semplice informazione fino a valutare se è meglio non fare nulla. Sì, in realtà io lì ho lanciato un po' una provocazione, nel senso che la cattiva partecipazione scaccia la buona partecipazione, in questo momento l'amministrazione pubblica non solo in Italia, quindi è un problema abbastanza diffuso, ha un problema, diciamo in Italia è un problema molto forte di fiducia, di credibilità rispetto al proprio operato nei confronti dei cittadini. C'è però molto distacco, questo succede in tutti i Paesi europei rispetto a quello che sono le decisioni assunte dal soggetto pubblico e l'opinione pubblica in generale, quindi nel momento in cui ci si rende conto che non ci sono quelle condizioni minime che io vi ho descritto, forse è meglio non farla un'iniziativa di partecipazione perché è controproducente. In questo momento ci sarebbe invece più bisogno di investire sulla qualità della relazione tra cittadino e soggetto pubblico, si dovrebbe cercare di rafforzarla, di attivare iniziative concrete, reali, strutturate per ascoltare, per dare spazio e soprattutto dar modo ai cittadini ragazzi, dopo che l'iniziativa si è conclusa, di verificare che effettivamente il proprio contributo è stato considerato. Questa è la criticità più forte che segnalano le persone che hanno partecipato a processi partecipativi. Grazie mille Neope, grazie mille anche a Laura che ringrazio veramente tanto perché con il suo intervento ho introdotto tutta una serie di concetti che poi vorrei riutilizzare nel mio intervento e quindi io procedo introducendo una serie di pochi concetti in più e un caso studio concreto così in modo da provare a approfondire una singola esperienza e provare a trarre un po' di esperienza e di lezioni apprese da questa. Introdurrò in particolare il concetto del monitoraggio civico, quindi andremo a capire che cosa sarà. Parto da una domanda, chi ha seguito il webinar precedente che si può ritrovare chiaramente nella registrazione? ha visto che anche l'intervento precedente della collega Chiara Ricci partiva da questo cartello dell'Unione Europea che rappresenta nel caso dei fondi SIE un po' l'emblema di quello che viene fatto sui territori a partire dai finanziamenti europei e dalla programmazione nazionale, regionale. Questo cartello ci evoca chiaramente una dimensione non solo di comunicazione ma anche di qualcosa che avviene, cioè di attuazione reale degli interventi sui territori. Spero mi sentiate, provo magari a avvicinare il microfono. Il problema che un po' tutti si pongono con i fondi SIE è quello del loro reale impatto sui territori, cioè riuscire a capire quali sono i risultati e chiaramente su questo c'è una struttura di livello europeo, di livello nazionale che si occupa di monitoraggio, che si occupa di valutazione delle politiche. Io chiaramente non entrerò in questo tema. Rimangono però spesso delle domande che non vengono soddisfatte dalle amministrazioni che mettono chiaramente in campo i loro processi di monitoraggio e di valutazione, chiamiamole ufficiale, di quello che avviene e cioè rimane la domanda su cosa avviene sui territori che beneficia il cittadino, che serve al beneficiario finale di questi interventi ad avere un impatto concreto. Spesso le valutazioni e i monitoraggi sono fatti a livello aggregato, quindi i dati che vengono rilasciati sono ad esempio l'avanzamento della spesa, sono a livello di procedure, di bandi, di tematismi, difficilmente si riesce chiaramente ad arrivare al livello del singolo progetto, su Open Coesione lo vedremo dopo, ce ne sono quasi un milione per la programmazione 2007-2013. Quello che invece interessa al cittadino è capire cosa succede nel proprio territorio, nel proprio quartiere e di andare a verificare che quello che è stato promesso negli obiettivi di quel progetto venga effettivamente realizzato. Da qui parte il monitoraggio civico. Quindi in questi prossimi minuti andremo a capire che cos'è il monitoraggio civico e come questo può contribuire all'accountability dei fondi SIE, cioè ad aiutare l'amministrazione a rendere conto di quello che viene fatto ed anche poi lo vedremo come recepire quello che è il feedback dal basso. Poi vedremo un caso concreto che è quello di Moniton, che parte appunto dall'iniziativa Open Coesione e che in particolare poi ha adesso in fase avanzata una collaborazione con altre realtà nazionali per un Integrity Pact. Vedremo dopo che cos'è questo modello Integrity Pact della Commissione. e poi alla fine vorrei tenerci qualche minuto finale per riuscire un po' ad affrontare qual è il tema che Laura ha introdotto molto bene, cioè l'importanza di integrare il feedback delle partecipazioni nelle decisioni delle politiche, quindi ad avere veramente un impatto concreto su quello che è il disegno, la programmazione e la valutazione delle politiche e poi la riprogrammazione delle stesse nelle fasi successive. Se non vedete le slide, ditemelo così cerchiamo di… non so se potete darmi un feedback su quello, intanto io vado avanti, tanto per scontato che voi le vedete. Ecco, alcuni le vedono, alcuni no. Io comunque vado avanti e magari forse è un po' meno di pesantezza delle slide, ma diciamo alcune sono più facili, alcune no. Grazie, alcuni direi che riuscire a vederle. Riprendo di nuovo lo schema che vi aveva mostrato la collega Chiara Ricci nel primo webinar ed è quello dell'accountability, perché è un po' diciamo la base su cui si fonda il monitoraggio civico. Molto brevemente abbiamo tre fasi, la prima fase è quella in cui la pubblica amministrazione pubblica delle informazioni online su quello che fa, sui progetti che finanzia, sui risultati, sui tempi di attuazione, eccetera. E' quindi importante che queste informazioni siano chiaramente più possibili e riutilizzabili, aperte, quindi usano formati open data. Perché devono garantire che nella seconda fase si possa creare un dibattito informato, quindi un dibattito basato su queste informazioni, per poi creare un giudizio. Il giudizio della cittadinanza in questo caso è molto importante ed è la vera essenza del monitoraggio civico, cioè riuscire a, sulla base dei dati che l'amministrazione rende a disposizione, mette a disposizione giudicare, quindi monitorare, osservare, creare un giudizio nuovo e magari creare nuovi dati, nuove informazioni a partire da dati disponibili e dire se banalmente un'opera che doveva compiersi in un certo tempo si è compiuta, se questa risponde alle esigenze dei territori e alle esigenze della cittadinanza o se si poteva fare in maniera diversa e quindi anche fornire dei suggerimenti. Questa seconda fase porta a una terza fase che è quella ancora più cruciale, di come utilizzare questo giudizio, queste evidenze, questi suggerimenti nell'azione politica, nell'azione pubblica, nell'azione delle amministrazioni che devono appunto programmare e attuare le politiche, quindi questo lo vedremo. Tutto questo perché ci sono, qui vado molto rapidamente, serve chiaramente a legittimare l'azione della pubblica amministrazione in un periodo in cui c'è crisi nella fiducia delle istituzioni, c'è crisi del sistema rappresentativo, in cui i cittadini vanno sempre o meno a votare, in cui ci sono le fake news ed è difficile riuscire a capire quello che è informazione vera, quella che è informazione falsa. C'è chiaramente un problema di discrezionalità nella pubblica amministrazione, quindi la pubblica amministrazione fa scelte, quindi anche i funzionari pubblici hanno la loro chiaramente ampio margine di manovra nel fare scelte politiche, diciamo, e quindi è importante che i cittadini monitorino e abbiano un approccio attivo in questo senso. E poi chiaramente c'è un problema che è quello dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, dell'azione pubblica e chiaramente la capacità di attivare meccanismi di partecipazione e di monitoraggio civico può migliorare l'efficienza dell'amministrazione e quindi fare politiche migliori. In questo caso c'è un'azione di apprendimento delle pubbliche amministrazioni che possono fare leva su quello che è il monitoraggio diffuso dei propri interventi per ricevere delle informazioni puntuali, come dicevo, non solo sui grandi aggregati, ma anche proprio sui singoli interventi, i singoli progetti che sono davvero tantissimi quelli finanziati dalle politiche europee in questo caso. Il concetto quindi, prima Laura introduceva le fasi di come passare dall'informazione fino all'empowerment, passando dalla progettazione partecipata e dalla consultazione. Uno studioso di media, di giornalismo americano che si chiama Shudson, qualche anno fa ha teorizzato il passaggio della cittadinanza informata, di quella che legge i giornali e vota consapevolmente informata dei fatti, informata di quello che avviene intorno a sé, fino ad arrivare alla cittadinanza monitorante, che fa qualcosa in più, che monitora, è proattiva nella ricerca non solo delle informazioni, ma che crea nuove informazioni, che va a cercare che cosa la politica pubblica fa nel proprio quartiere, nel proprio territorio e raccoglie nuovi dati, nuove informazioni e poi potenzialmente da trasmettere alle amministrazioni. Questo passaggio è un po' la base di una prima definizione di monitoraggio civico che è stata data proprio a seguito della nascita dei primi esperimenti di Moniton e poi è stata raccolta in gran parte dalla società civile che è impegnata in questi temi, quindi si sta diffondendo questa idea e anche questo uso di questa parola, monitoraggio civico, questa espressione. Si intende l'attività sistematica di controllo, verifica, raccolta di idee e proposte che le comunità civiche o i singoli individui conducono nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Quindi si tratta di, a partire della disponibilità di dati pubblici e di informazioni aperte, di andare a controllare, verificare e raccogliere in forma sistematizzata idee e suggerimenti che poi possono essere utili alla pubblica amministrazione nel processo di definizione delle politiche. Vediamo operativamente come queste cose si declinano nel caso di Moniton. Moniton, anche qui, nello scorso webinar avete visto come funziona Open Cohesione, qui richiamo molto rapidamente di cosa stiamo parlando. Open Cohesione è il portale unico per la trasparenza dei fondi SIE, quindi è il portale nazionale in cui sono pubblicati i dati sull'attuazione, quindi su tutti i progetti finanziati nell'ambito della politica di coesione. Open Cohesione ama definire se stesso come un'iniziativa di Open Government, quindi di nuovo Laura richiamava prima l'importanza di questo paradigma, è diverso dire che si fa un portale semplicemente di Open Data, come potrebbe essere il semplice rilascio di dati pubblici, fare un'iniziativa di Open Government e cercare, semplificando, di trovare in modo che questi dati siano effettivamente utilizzabili, utilizzati da chi ne ha un interesse. Per fare questo vi garantisco che non è cosa facile, perché è facile pubblicare i dati, provare a essere trasparenti e altra cosa è che qualcuno veramente ne trovi un'utilità e che ne faccia un uso efficace. Per provare a rispondere a questo obiettivo, Open Cohesione e il suo staff, di cui anch'io faccio parte, nei primi anni in cui è stato lanciato, parliamo dell'inizio del 2013, si è approvato a fare una vera e propria politica proattiva per andare a scovare utenti in giro per l'Italia, andare a scovare persone interessate a quei dati, interessate per poterle poi riutilizzare e andare a a capire cosa effettivamente stava succedendo nei propri territori grazie ai fondi europei, ai fondi delle politiche di coesione. Nel 2013 a gennaio Open Cohesione ha presentato il portale, ha mostrato che cosa si poteva fare con quei dati in un raduno di una delle community, delle comunità nazionali più importanti sugli Open Data che è Spaghetti Open Data, in quell'occasione si stava progettando un hackathon, quindi un raduno di solito per smanettoni, personaggi che riutilizzano i dati per farne servizi, per provare a farne nuovi utilizzi innovativi e la proposta di allora fu di dedicare una delle sessioni di questo hackathon ad un monitoraggio civico. L'idea era appunto di dire guardate cari partecipanti, qui ci sono dei dati interessanti, provate a usarli, proviamo insieme ad usarli e andiamo a verificare se i progetti che sono su Open Cohesione hanno portato a noi risultati che avevano promesso. Questa diciamo sembra un'idea banale, ma in realtà qui vedete un articolo del Guardian di poco prima dell'estate, è un po' un'iniziativa abbastanza unica nel suo genere in Europa e sarei anche molto curioso di capire se ci sono cose simili che si stanno muovendo. In realtà chiaramente si tratta ancora di esperimenti iniziali, non è una pratica diffusa, però che ha portato da quella volta di questo raduno di Spaghetti Open Data a Bologna, ha portato piano piano ad un rafforzamento dell'iniziativa, più persone si sono man mano aggiunte e interessate a queste tematiche, si è creato un piccolo gruppetto con background molto diversi, giornalisti, ricercatori, analisti di politiche pubbliche, esperti chiaramente di settore, ma anche semplici cittadini che erano interessati, volevano capire come mai una certa infrastruttura ancora non fosse realizzata, perché la pubblica amministrazione aveva questi ritardi clamorosi nel progettare, nel mettere in piedi le attività, in alcuni casi erano cittadini che erano invece contenti di quello che avveniva sui territori. Insomma è nata una piattaforma, questo è il sito, la home page di Moniton, in cui vedete questa mappa dell'Italia in cui sono segnati tutti i cosiddetti report di monitoraggio civico. È possibile, seguendo un metodo che è quello di scegliere un progetto su Open Coesione, creare una comunità, quindi un piccolo gruppo di monitoraggio, andarsi chiaramente a fare un giro su internet, un'indagine desk su quello che sono già le informazioni pubblicate sul progetto e poi fare la parte principale che è quella dell'esplorazione sul campo, quindi andare a verificare attraverso interviste, attraverso altre informazioni raccolte come può essere video, andare a fare le foto, andare a vedere come questi progetti si stanno attuando nel tempo e poi scrivere questi report di monitoraggio civico e caricarli, condividerli sulla piattaforma di Moniton. Qui vi faccio vedere molto velocemente alcune statistiche sull'utilizzo di questa piattaforma. come vedete la maggior parte ormai dei report presenti su Moniton e questi report di monitoraggio civico sono fatti dagli studenti delle scuole superiori, questo perché Moniton rappresenta uno degli strumenti a disposizione del progetto a scuola di Open Coesione, quindi in questo caso a scuola di Open Coesione si avvale di questa comunità, diciamo totalmente dal basso che è Moniton per fare monitoraggio civico, vedremo dopo che cosa rappresenta a scuola di Open Coesione e si vede come gli studenti stiano un po' prendendo piede sulla piattaforma e postando sempre più report. In realtà le comunità che partecipano a questo monitoraggio civico sono tante, sono solo le scuole superiori, ma sono anche delle realtà nazionali oppure locali di partecipazione civica, ma anche con obiettivi diversi tra di loro, per esempio la rete di Libera, il gruppo Abele ha obiettivi magari più legati all'anticorruzione, altri come Action Aid, l'empowerment della cittadinanza, quindi dare gli strumenti per migliorare le skill, migliorare le capacità dei cittadini per rafforzare anche le istituzioni democratiche, il dialogo democratico, fare advocacy sui temi che più hanno un impatto. Anche altre associazioni locali sono nate come ad esempio Moniton Calabria, che è una vera e propria associazione strutturata, oppure Moniton Piemonte, che è una comunità molto attiva che sta anche includendo studenti universitari dell'Università di Torino in percorsi di apprendimento, che poi si concludono con una visita di monitoraggio e una visita anche a Bruxelles, alle istituzioni comunitarie in cui i risultati sono discussi anche con la Commissione europea. A gennaio di quest'anno erano stati monitorati oltre un miliardo e due di fondi strutturali, quasi tutti sul 2007-2013, chiaramente che erano gli interventi già in attuazione in quel periodo, altri erano invece fondi nazionali, quindi fondi sviluppo e coesione, PAC per il 22% e i temi monitorati chiaramente cambiano molto, i più monitorati sono quelli dei trasporti anche per il solo fatto che sono quelli che hanno un maggiore peso finanziario, ma anche cultura e turismo che è molto sentito a livello locale, i temi dell'ambiente, le politiche urbane, ricerche e innovazione e istruzione. Spesso i soggetti monitorati non sono tanto i ministeri o le regioni, ma sono gli enti più vicini ai cittadini, quindi sono i servizi gestiti direttamente dai comuni, il comune è il soggetto attuatore nel gergo del monitoraggio dei fondi strutturali e chiaramente questo spesso va a includere anche le società municipalizzate, le società pubbliche e locali e in minima parte le imprese. La maggior parte dei progetti sono stati monitorati al sud, anche per il solo fatto che lì si concentrano di più i finanziamenti della politica di coesione e come si vede in questo grafico, spesso, quasi sempre, i report di monitoraggio includono una visita diretta e un'intervista direttamente con i responsabili del progetto. A volte sono stati anche intervistati beneficiari finali, quindi spesso le comunità di monitoraggio locali andavano a chiedere direttamente a, per esempio, gli utenti di una certa infrastruttura, un servizio per esempio di tram finanziato dalle politiche di coesione, che cosa ne pensavano di quel servizio, se era rispondente o no a quello che erano i loro bisogni e che cosa avrebbero fatto di alternativo. In alcuni casi sono anche stati intervistati i referenti politici, quindi di solito i sindaci oppure i presidenti di provincia. La cosa interessante ad esempio che succede nell'ambito del progetto di a scuola di open coesione è che alla fine della visita di monitoraggio civico e di tutta la raccolta dei dati avviene un evento finale che è organizzato dalle comunità di monitoraggio in cui vengono invitati i sindaci ma anche gli amministratori locali e gli vengono fatte delle domande, a volte domande scomode su che cosa non ha funzionato, che cosa invece ha funzionato e viene iniziato così un dibattito pubblico sull'efficacia di questi fondi e su come migliorare le cose. In generale il giudizio complessivo, queste sono statistiche chiaramente dei primi anni di presenza di Moniton, di raccolta di dati da parte di Moniton, la maggior parte fortunatamente sono progetti che funzionano, quindi il 44% sono conclusi e sono giudicati utili, altri sono in corso però sembra che tutto proceda bene, in altri casi invece abbiamo progetti bloccati o progetti che procedono con grosse difficoltà, in questo grafico vediamo un po' quali sono i problemi rilevati, spesso sono di tipo ritardi, di tipo finanziario, ritardi nelle procedure amministrative oppure ritardi nella realizzazione degli interventi, quindi problemi che avvengono a valle della decisione di finanziare un progetto, quindi proprio nel vero e proprio fase di realizzazione dei lavori, in altri casi sono i risultati che non sono soddisfacenti oppure che mancano di qualcosa, ad esempio occorrerebbero altri interventi complementari per fare funzionare un dato progetto, quando non ci sono il cittadino dice attenzione, tutto è nella norma, tutto segue le regole e segue il buon andamento di ciò che c'è scritto nel progetto sulle carte, ma in realtà l'impatto che vediamo non è quello che ci saremmo aspettati, quindi anche questa è un'altra prospettiva che spesso manca alle pubbliche amministrazioni. Altre invece, altre componenti molto importanti sono i risultati del monitoraggio civico in termini di idee, di suggerimenti, quindi spesso sono suggerimenti molto specifici per ogni singolo progetto. La scuola di open coesione è un percorso appunto che vi dicevo che è rivolto alle scuole superiori, è un progetto che a differenza di Moniton è finanziato dal progetto open coesione, quindi finanziato direttamente da una pubblica amministrazione centrale. Una cosa molto interessante è che mette insieme studenti, centri Europe Direct, quindi i centri di diffusione della cultura europea sui territori, associazioni locali, media, perché i studenti cercano anche di mettersi in contatto con i giornalisti locali, con le TV per appunto dare le proprie evidenze ai giornalisti in modo da creare ancora più dibattito pubblico, un dibattito informato su quello che avviene nei territori e poi come vi dicevo prima, l'organizzazione di questi eventi finali in cui i policy maker locali, i politici e gli amministratori vengono chiamati in causa appunto nel dibattito su quello che è stato raccolto. In alcuni casi, le slide sicuramente verranno lasciate, ci sono alcuni casi di successo in cui questo dialogo ha portato dei risultati, per cui sono iniziati dei meccanismi di collaborazione tra i vari soggetti pubblici coinvolti o che attuano o che programmano queste politiche e gli studenti stessi, studenti o come nel caso di Torino le comunità di adulti che si si sono messe insieme a questi scopi, portando anche dei risultati di per esempio un progetto che prima era bloccato e successivamente si sblocca, oppure l'apertura di nuovi dati pubblici nella forma di open data, oppure nella realizzazione di festival, ad esempio nel caso di Sora, di festival del cinema che mancava della città da tanto tempo e che questo processo ha portato ad accadere. Un ultimo caso di cui vi parlerò, che riguarda… io sto tenendo il microfono più vicino possibile, mi dispiace per chi non riesce a sentire bene, dire la verità è la prima volta che mi capita, per cui mi dispiace, però provo a tenerlo ancora più attaccato. L'ultimo caso in cui Monitone è coinvolto, che è un modello molto interessante che vi volevo mostrare, è quello degli Integrity Pact, deriva da un'idea di Transparency International, ma è stata fatta propria dalla Commissione Europea che ha un paio di anni fa lanciato un bando a livello europeo che coinvolge una serie di paesi che non sono chiaramente solo l'Italia, sono anche il Portogallo e la Grecia e in larga parte dei paesi dell'est Europa, un bando rivolto a due tipologie di soggetti, da una parte delle amministrazioni che si vogliono fare e monitorare, che offrono dei progetti interessanti per la cittadinanza, per essere fatti oggetto di monitoraggio civico e dall'altra parte la società civile, quindi delle associazioni locali che si prendono l'impegno di andare a verificare, a monitorare l'attuazione di un progetto a partire dalla decisione in cui il progetto viene finanziato, passando dalla fase della realizzazione per esempio dei bandi pubblici, degli appalti alle imprese che poi lo devono realizzare concretamente, fino a una valutazione di quello che è l'efficacia finale, quindi di quello che è il monitoraggio in itineri, quindi rispetto a quello che sta succedendo man mano che il progetto viene attuato fino a una valutazione finale di efficacia. Questo in Italia viene realizzato da una serie di associazioni, di gruppi tra cui Action Aid, il gruppo Abel e Transparency International Italia, quindi la serie italiana di Transparency e nel caso di uno di questi casi che riguarda Sibari in Calabria, riguarda il Museo archeologico nazionale a Sibari e dell'area archeologica a Casa Bianca. In questo caso anche Moniton è uno dei partner e la cosa interessante che vi volevo mostrare è appunto questo modello che si potrebbe andare ad estendere anche ad altre realtà, in cui abbiamo due accordi, uno è il patto di integrità, da cui Integrity Pact, che è un accordo tra una stazione appaltante, quindi è l'amministrazione che gestisce questi fondi e le imprese che partecipano alla gara per la realizzazione del progetto, con specifici impegni per la prevenzione e la repressione della corruzione. Il fatto innovativo, ancora più innovativo di questo modello è l'accordo di monitoraggio, che è un accordo tra di nuovo la stazione appaltante, quindi un'amministrazione che in questo caso di Sibari è il MIBACT, il Ministero per la Cultura, quindi tra il MIBACT e una supervisore indipendente che viene selezionato in base a specifiche competenze di alto livello per andare a monitorare che tutto sia una norma. Questo supervisore indipendente è in questo caso la società civile, quindi il monitoraggio civico in questo caso viene declinato in un modello formale, in un accordo tra la stazione appaltante e la società civile in cui è obbligo per l'amministrazione partecipare ad eventi di confronto e di deliberazione anche con i cittadini, quindi un modello molto interessante. Queste sono le caratteristiche dei due interventi su cui vado molto rapidamente. Dalla firma del patto si passa ad azioni per la trasparenza e la partecipazione che includono anche una scuola di monitoraggio civico, perché a questo punto è fondamentale formare all'interno delle comunità locali le competenze per riuscire anche ad entrare nel merito dei tecnicismi sugli appalti pubblici, i tecnicismi legati alle caratteristiche del singolo intervento, nel caso di Sibari è un'area archeologica, quindi anche le competenze ad esempio sui materiali utilizzati piuttosto che sulle tecniche che vengono utilizzate di restauro che riguardano chiaramente delle professionalità ben definite, ma su cui anche la cittadinanza può dare un contributo. Quello che alla fine è il risultato finale è appunto un report di monitoraggio civico, sulla base del modello generale proposto da Moniton, ma chiaramente adattato sul caso specifico, così come avviene sempre. Passo a questo punto alla terza fase del mio intervento che mi interessa particolarmente, su cui sinceramente vorrei sfruttare un po' la vostra conoscenza, siete tutti i partecipanti a questo webinar, sono tutti e tanti a quanto vedo anche amministratori pubblici coinvolti e interessati quantomeno alla gestione dei fondi SIE e quindi mi piacerebbe avere anche un vostro parere su questo, per cui proverei a tentare una modalità un po' più innovativa, un po' più interattiva anche di dialogo su questo tema. Ho pronto un sondaggio che a un certo punto lancerò e quindi proverò a fare questo esperimento, a chiedervi un'opinione, a vedere cosa succede, speriamo che la domanda sia interessante. Il tema è quello della terza fatta, cioè una volta che l'APA è trasparente, open e rilascia informazioni interessanti, una volta che i cittadini come nei casi che abbiamo visto hanno utilizzato questa informazione per creare un giudizio, per raccogliere suggerimenti proposte, quindi c'è già ormai dopo alcuni anni di open government, c'è già una base o almeno una piccola base sperimentale di dati e informazioni che feedback, che raccolti dal basso, che sono stati raccolti, proprio per essere utilizzati. Che cosa avviene? Spesso si pensa alle conseguenti tipo legale, chiaramente se tu, amministrazione, non rilasci i dati in un certo modo, non segui il codice di condotto europeo del partenariato, ne hai conseguenti, se tu chiaramente non pubblichi i dati, non rispetti una norma del regolamento UE e in teoria c'è il blocco dei pagamenti, questo spesso è la minaccia che la Commissione fa alle amministrazioni che sono inadempienti, ma potrebbero anche essere dei criteri, se volete, di premialità che si possono pensare per il futuro. Un'altra conseguenza è invece di tipo più soft, una volta che un'amministrazione è ritenuta inadempiente oppure non è efficiente come si vorrebbe, si può evidenziare questo in un dibattito pubblico, quindi in un dibattito aperto come succede nel caso di Ascordio con coesione oppure sui media, in tv, sui giornali creando una pressione positiva per un cambiamento, oppure si possono iniziare dei meccanismi di collaborazione, collaborazione come spesso è avvenuto nel caso di Moniton, in cui ci sono amministrazioni come ad esempio in Calabria, in cui i ragazzi in questo caso di Ascordio con coesione sono stati invitati nei comitati di sorveglianza per esporre quella che è la loro visione di quello che succede nei progetti che hanno monitorato e portare lì, fare un intervento esattamente come gli altri membri del comitato di sorveglianza chiedendo specifiche, facendo specifiche richieste nel caso specifico dell'anno scorso cioè su un progetto all'Ocri che appunto era realizzato formalmente ma non pienamente operativo queste politiche di collaborazione richiedono però chiaramente una, come Laura diceva perfettamente nel mio intervento precedente, devono avere un seguito, devono mostrare al cittadino che i risultati di questa attività hanno portato a un cambiamento delle decisioni, un cambiamento reale e questo avviene quando il feedback viene, quando tutte queste informazioni raccolte dal basso della cittadinanza viene chiaramente integrato nei meccanismi decisionali, viene utilizzato nelle pubbliche amministrazioni. Quindi abbiamo, io ho provato a mettere in ordine una, sì la slide scusate, la slide non si vedeva e quindi è venuta fuori bianca, in realtà era semplicemente un segnaposto per mostrare quali sono i meccanismi della collaborazione, non vi siete persi niente. Quindi ho provato a elencare quali possono essere le sfide dell'integrazione dei feedback dei cittadini nell'azione pubblica, nell'azione della pubblica amministrazione. Io credo sia molto importante andare a capire quali sono gli ostacoli, le barriere che si frappongono tra l'open government e le attuali modalità di azione da parte delle amministrazioni. sono, diciamo, queste barriere possono essere più di tipo legale, cioè voi nella vostra esperienza che cosa riscontrate? Che ci siano procedure, che ci siano regole che non sono coerenti con questo tipo di processi, quindi bisognerebbe migliorare le norme esistenti, le procedure amministrative esistenti? Oppure si tratta più di barriere organizzative, cioè per esempio il fatto che è un problema, il fatto di creare nuovi processi, processi che, quindi persone e meccanismi amministrativi che si occupino di prendere questo feedback e mostrarlo e visualizzarlo e recepirlo. Nuove competenze che mancano, oppure un problema di resistenza del cambiamento all'interno, un problema di coordinamento tra amministrazioni, specialmente nel caso in cui c'è un problema di governance che coinvolge più livelli amministrativi, oppure sono più di tipo cognitivo, cioè di interpretazione dei dati ricevuti. Sappiamo che le amministrazioni ricevono stimoli da tantissimi canali, sono canali istituzionali o meno, c'è un alto flusso di informazioni che arriva al decisore, quindi anche questo andrebbe, va a scapito della capacità di leggere questi dati, di interpretarli, quindi nuovi strumenti in teoria servirebbero per facilitare questo processo di, diciamo, di interpretazione. Altri sono chiaramente legati ai costi, queste azioni non costano poco, Open Cohesion è stato per esempio recentemente rifinanziato all'interno del Pong Governance per diversi milioni di euro, sono costi per sviluppare strumenti, per sviluppare metodologie, per gestire questi processi nuovi che si vanno a creare. E infine sono anche delle barriere di tipo tecnico, chiaramente ci sono degli strumenti nuovi che vanno sviluppati, strumenti tecnologici, spesso non è facile creare ad esempio dei team in cui ci sono al tavolo amministratori e sviluppatori che parlano spesso linguaggi diversi e quindi non è facile spesso integrare tra delle competenze così diverse. Quindi quello che io vi chiederei in questo momento è di provare, e quindi chiederei alla regia di lanciare questo sondaggio, di scegliere uno di questi elementi e di andare a dirmi quali, secondo voi, è quello più importante. L'idea è appunto di riuscire a capire, io un'idea ce l'ho, probabilmente giusta o sbagliata non lo so, dipende chiaramente dall'esperienza di ciascuno, so che molti di voi hanno esperienza di partecipazione pubblica, chiaramente altri sono interessati, quindi provate a pensare se potenzialmente di avere tra le mani un elenco di dati provenienti da Moniton su come vengono utilizzati i fondi strutturali nella vostra regione, nella vostra città e dire bene, adesso che abbiamo questi dati, come facciamo a integrarli nelle nostre decisioni, come facciamo nel proprio lavoro amministrativo a tener conto di questi suggerimenti, che cosa manca? Quindi rispondete numerosi, vedo che già cominciano ad arrivare un po' di risposte, poi proviamo a commentarle insieme, non so se riusciamo a farlo in maniera così interattiva, però io proverò a darvi un giudizio, intanto vedo che sono quasi tutte, l'80% riguardano le sfide organizzative, quindi di nuovo, qui state dicendo, vabbè è un po' anche legali, le norme, le regole che non favoriscono, per ora nessuno ha un problema di costi, chiaramente qui stiamo parlando di problema principale, ho chiesto di fare una scelta abbastanza secca su un solo elemento, chiaramente mi immagino siano tutti o quasi tutti presenti in contemporanea, però vi chiederei di sottolinearmi qual è l'intervento più urgente, diciamo. E poi a questo punto, visto che abbiamo già un vincitore, anche se vedo che ancora arrivano voti, il 73% dice che è un problema di sfide organizzative e quindi chiederei a qualcuno di voi che voglia magari dirmi meglio, dirci meglio che cosa intende per sfide organizzative, fare magari un esempio, forse un esempio un po' lungo, però magari proprio in due righe, in due parole che possiamo vedere rapidamente, di dirmi perché è così importante che l'APA si organizzi per ricevere questi feedback. Se lo volete scrivere in chat, poi magari non so se riusciamo veramente a commentarlo perché il tempo ormai sta per scadere, però lo teniamo agli altri e poi magari lo riprendiamo in un'occasione successiva. Dunque è già molto interessante il fatto che ci sia una vittoria schiacciante delle sfide organizzative, quindi immagino che sia veramente molto importante riuscire a cambiare un po' la cultura interna dell'amministrazione che a quanto pare non ha tantissime difficoltà fattuali nel fare accadere queste cose, più che altro ha problemi interni di riuscire a mettere in piedi il processo di integrazione dei dati, di recepimento dei dati e di vero e proprio utilizzo. Si potrebbe dire che è importante mettersi a farlo più che a pensarlo, non so se siete d'accordo con questa riflessione transcian. Dico, la distanza del cambiamento, poca cultura della partecipazione e quindi chiaramente un problema anche culturale interno delle amministrazioni. E poi chiaramente i processi nuovi comportano anche aspetti cognitivi, legali, questi chiaramente sono tutti interrelati. È molto interessante questa discussione, purtroppo non abbiamo tantissimo tempo per continuarla, l'idea familistica dello Stato è molto interessante. Io intanto direi se i colleghi non hanno altre idee, man mano che arrivano commenti, intanto di leggere le domande. La prima dice, se non sussistono le condizioni per attivare un processo partecipativo, ah no, questa era quella della sessione precedente, scusate. Quelli per me sono, il processo di modernamento dell'APA ancora lento, la popolazione non brilla per cultura digitale, non ha la competenza. Sì, questa è una domanda che è un'osservazione molto condivisibile direi. È molto importante chiaramente fare anche azioni proattive, penso, da parte della pubblica amministrazione, per coinvolgere e per dare quelle skill, quelle competenze alle cittadinanze, creare quello che in letteratura viene chiamato la comunità di interpretazione, le comunità interpretative, dare quindi gli strumenti per interpretare i dati pubblici che vengono rilasciati, altrimenti probabilmente non si parla di vera e propria trasparenza. È facile fare trasparenza quando però poi non ci si cura del fatto che poi i cittadini capiscono, comprendono, interpretano il dato che tu stai pubblicando e possano reagire positivamente, possono creare nuova informazione che poi sia utile anche a te, amministratore, nel momento in cui vuoi migliorare la propria politica o vuoi avere più legittimità nei confronti del territorio. Andatevi a vedere a scuola dopo in coesione, a scuola dopo in coesione.it, il sito, lì si parla proprio di competenza a partire dalla scuola superiore, ma vi dico che questo metodo è stato già usato in alcune università italiane, tra cui menzionavo quella di Torino. È un metodo molto valido per dare ai cittadini le skill di base su che cosa sono gli open data, che cosa è la trasparenza, come usare gli strumenti di monitoraggio civico, come interfacciarsi con la pubblica amministrazione, capire quali sono le leve per farlo. Un'altra cosa molto interessante sono queste scuole di monitoraggio civico di Action Aid, è un modello che è stato iniziato in Emilia Romagna dopo il terremoto, con open ricostruzione, questo era il nome del progetto, adesso c'è questa scuola di monitoraggio a Sibari in cui vengono proprio coinvolte le comunità locali e si impara come funziona un'amministrazione, come funzionano gli appalti, eccetera. Il fatto di l'integrità comporta qualche costo onere? Allora, diciamo no, per come è fatto adesso il bando della commissione, è gestito dalla DG Regional Policy, politica regionale, che dà appunto un'assistenza finanziaria alle comunità locali, alle istituzioni della società civile per realizzare il progetto, l'amministrazione deve semplicemente fare un po' il suo mestiere nel rendere trasparenti i dati e essere coinvolta in questi momenti di confronto, quindi non ha costi, per le amministrazioni non ha nemmeno un chip finanziario, però abita questo meccanismo, perché sostiene in questo caso Action Aid, Transparency International, Amapola, questi soggetti che si stanno impegnando nel fare il monitoraggio civico. Va bene, arrivano altre idee, io però immagino che chiedo anche ai colleghi magari di dirmelo in chat se sto sforando troppo e penso di sì perché manca un minuto alla fine, vedo che ci sono altre idee che si stanno susseguendo, mi sembra molto interessante e sono molto contento di aver provocato un po' di dibattito anche all'interno del webinar, mi piace che qualcuno parli di familismo amorale, questa idea di Putnam, questo chiaramente richiama temi un po' più generali. questi potrebbero essere appunto meccanismi un po' per cambiare se vogliamo le dinamiche di potere all'interno delle nostre comunità, dare l'informazione aperta e condividerla con una platea più alta, più ampia di soggetti che prima non aveva un'idea di che cos'era una politica pubblica di come funzionava, di come funzionano i finanziamenti europei, di che cosa veramente fa ad esempio l'Europa per il proprio territorio, implica un po' un pochino ridistribuire il potere, non a caso si parla di empowerment, di dare potere a chi prima non ce l'aveva avuto, ne aveva avuto meno. Queste potrebbero essere attività interessanti in questo senso, provare a fare politiche più inclusive e aprire, un po' aprirsi ai punti di vista, non vuol dire soltanto ricevere un'expertise, andare a ricevere specifiche, avvantaggiarsi di specifiche professionalità e punti di vista informati, molto informati sui territori, ma anche dare la possibilità di creare in maniera inclusiva, di creare in maniera più coinvolgente e tenendo conto di quelli che sono, maggiormente di quelli che sono i bisogni dei contesti territoriali. Quindi in questo senso queste azioni di nuovo ripeto, possono essere veramente una novità anche in questo senso qui, per rompere un po' di quelli che sono i meccanismi ormai sodati o dati per...